Tutto questo programma nasce da marzo scorso, abbiamo lavorato con Gemmi, con Riccioli, perché vogliamo, non facciamo promesse o cose così, ma vogliamo sicuramente rinforzare perché l'Arezzo merita un posto giusto e anche i nostri investimenti meritano una risposta giusta. Quindi con l'aiuto anche di questi amici intimi, che gli piace l'Arezzo, gli piace questa sfida, abbiamo deciso di unire le forze. Li conoscerete presto, però non posso anticipare. La novità che non ti aspetti, o per meglio dire, la sorpresa fuori programma. A regalarla ad una piazza Sant'Agostino colorata a festa è Mauro Ferretti. Il patron sale per primo sul palco, gli occhi dei tifosi sono tutti su di lui ed ecco il colpo da 90. Nell'Arezzo entreranno nuovi soci, amici del patrono Amaranto, imprenditori a cui piace il calcio e piace anche l'Arezzo. L'obiettivo della stagione? Non vuole sentir parlare di Serie B il presidente Amaranto, quanto semmai di obiettivi che tendono al rialzo, con in primis il raggiungimento dei play-off. Dovendo quantificare basta guardare la squadra che abbiamo fatto, credo che sia una squadra di tutto rispetto, ognuno ha un curriculum di tutto rispetto veramente, quindi ci aspettiamo. A questo punto il pallino ce l'ho avuto io, a questo punto loro hanno la palla, quindi sono loro che adesso ci devono far vedere se abbiamo visto giusto o meno. Play-off pronunciamoli pure, però altre cose non le pronunciamo perché oltretutto io sono anche scaramantico.